Quante volte vi è capitato che una zanzara vi abbia pronto e voi cominciate a grattarvi, grattarvi, grattarvi? Adesso non avrete più bisogno per un zanzi free e lo trovi pure qui, ma dove? Alla Tulli Elettronica via Francesco Baracca 74, telefono 06 24 12 600. Volete sapere il vostro braccialetto colorato che allontana e disorienta le zanzare quanto costa? Solo 5 euro, prodotto italiano, antiallergico, plezzo cinese, 5 euro.